Non solo Cortina, oltre alla realizzazione della nuova cabinovia Cortina 5 Torri, al recupero funzionale della piscina di Guarnier e alla riqualificazione del percorso ciclopedonale La Riva Cademai, progetti finanziati dal Fondo Comuni Confinanti, confluiti nel pacchetto per le infrastrutture sportive di Cortina 2021 e quindi passati dalla scrivania del sindaco a quella del commissario governativo, anche altre operazioni cambieranno soggetto autorizzato a gestire le risorse. Il Comitato Paritetico del Fondo, infatti, ha deciso di affidare all'Unione Montana Feltrina la regia dei progetti di ammodernamento delle strutture sportive del Feltrino, una partita da 7.870.000 euro. I Comuni si preparano alla stagione dei cantieri. Anche l'intervento qua in Piscina Comunale di Pedavena farà parte del progetto di riqualificazione degli impianti sportivi del Feltrino. Per cui la piscina di Pedavena, Santa Giustina, il Palaghiaccio di Feltre, il Monte Avena e anche l'intervento, gli impianti sportivi di Quero Basso sono stati tutti condivisi e anche noi porteremo qua un intervento da 2 milioni e 3. L'intervento renderà l'impianto più fruibile? Questo sito è molto frequentato e oramai anche la stessa entrata non è più sufficiente e sicura per quanto riguarda l'entrata sia delle scuole e sia degli utenti della piscina. Per cui proprio tutta anche quest'area esterna farà parte dell'intervento. Per molti comuni, inchiodati dai vincoli di bilancio, il Fondo Comuni Confinanti rappresenta ormai una corsia preferenziale per il reperimento di risorse con cui finanziare i progetti di maggiore importanza. Per noi è stata veramente una manna, siamo qua a poca distanza anche da quelli che sono gli impianti del Boscherai dove anche la sede del Paradelta è stata costruita appunto con questi fondi.